Musica Trovato purtroppo senza vita il corpo dell'ufficiale giudiziario di 54 anni disperso da domenica sul Monte Orfano Da reale mutua che assicura ferrovie del Mottarone i primi risarcimenti ai familiari delle vittime In Baita e in Cannobina aveva una carabina e due baionette detenute illegalmente, denunciato svizzero Al via i lavori di consolidamento del ponte della Mizzoccola-Domo d'Ossola da lunedì a venerdì chiusura notturna della strada Dopo le elezioni di domenica i consigli di quartiere di Omenia si avviano verso l'insediamento Alle 21 ogni giovedì su Vicio Azzurra TV l'appuntamento con Spazio Neve E questa settimana ospite lo Sciclub Gallarate Ben ritrovati a una buona serata dalla redazione di Vicio Notizie In apertura la cronaca con le ricerche dell'uomo scomparso a Verbania Che sono finite purtroppo nel peggiore dei modi Il corpo esanime di Maurizio Gioviale è stato ritrovato nel pomeriggio alle pendici del Monte Orfano Il ritrovamento al termine di due giorni di intense ricerche E' stato ritrovato senza vita intorno alle 15 di oggi nella cava situata di fronte a Gran Casa Sul rettilineo tra Verbania, Fondotoce e Gravellona Il corpo di Maurizio Gioviale, l'uomo, era disperso da domenica al Monte Orfano Gioviale, 54 anni, originario di Salerno, viveva e lavorava a Verbania Era ufficiale giudiziario presso il Tribunale Le ricerche erano scattate martedì sera L'allarme era stato dato dai colleghi del disperso Che per due giorni non si era presentato al lavoro Erano partite dalla zona di Prato Michilaccio Tra Gravellona, Tocce e Mergozzo Dove era stata trovata l'auto di Gioviale Nella stessa zona era stato allestito il campo base delle ricerche L'uomo domenica era partito per un'escursione Al Monte Orfano doveva fare ritorno dalla sentiero azzurro Impegnati nelle ricerche squadre di soccorso alpino Decima delegazione Valdosso, la vigili del fuoco E poi polizia, carabinieri, guardia di finanza, protezione civile E diversi volontari amici del disperso Che hanno voluto battere i sentieri lungo i diversi versanti del Monte Orfano Sorvoli dall'alto con elicotteri di polizia, guardia di finanza Ai vigili del fuoco fino al tragico epilogo di oggi pomeriggio Sul posto dopo il ritrovamento si è recata anche la procuratrice Olimpia Bossi Da Salerno arrivati i familiari Ed ora parliamo della tragedia del Mottarone La compagnia reale mutua che assicura la società Ferrovie Mottarone SRL Ha messo a disposizione il massimale previsto Per risarcire i primi familiari delle vittime della tragedia Un milione come acconto al piccolo ETA La compagnia assicurativa reale mutua ha liquidato i primi risarcimenti Ai familiari delle vittime della tragedia del Mottarone L'accordo è stato siglato Nei prossimi giorni le somme arriveranno La società che assicura Ferrovie del Mottarone SRL Ha messo a disposizione il massimale previsto dal contratto di 10 milioni di euro Prima vengono risargiti i parenti più stretti Per il piccolo Eitan, unico sopravvissuto La cifra è di circa un milione di euro Ma la somma è da considerarsi solo come acconto Per il bambino che ha perso i genitori, il fratellino Ed è rimasto ferito nell'incidente Infatti nel tempo dovrà essere valutato anche il danno psicologico Sono circa 60 i familiari che hanno ottenuto le somme in questo momento Potranno comunque costituirsi parti civili In occasione di un eventuale processo Secondo le stime, in base ai tabellari, per il risarcimento di tutti gli aventi diritto Servirebbero complessivamente 30 milioni di euro Incendio tetto, oggi pomeriggio a Crevola d'Ossola In Borgata, località Bosco Le fiamme hanno interessato una porzione di copertura in tegola canadese Di una villetta monofamiliare di due piani I vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola Giunti sul posto con due squadre Sono riusciti a circoscrivere le fiamme Ad una porzione limitata Circa 10 metri quadrati di tetto Difficile l'accesso al luogo con i mezzi antincendio Perché la strada è molto stretta Fortunatamente non ci sono stati feriti Un cittadino svizzero è stato denunciato Dai carabinieri di Cannobio Perché è sorpreso a custodire illegalmente una baionetta Nella sua casa di montagna I dettagli nel servizio Nella baita custodiva una carabina Il 62enne cittadino svizzero Residente in Italia Denunciato dai carabinieri della stazione di Cannobio Per detenzione illegale di armi È stato lui stesso a contattare i militari Per un presunto danneggiamento Ad una tubazione dell'impianto idrico Prospicente una baita di sua proprietà In valle Cannobina Dove va spesso in villeggiatura I carabinieri sono quindi andati sul posto Per verificare se la condotta danneggiata Fosse effettivamente di pertinenza della sua baita Successivamente hanno effettuato una verifica Anche all'interno Entrando grazie a un vicino di casa Il proprietario stesso Gli aveva chiesto di accompagnare i militari Dato che si trovava in Svizzera Per motivi di lavoro Una volta nell'abitazione I carabinieri hanno subito notato La presenza di una carabina a calibro 22 Appoggiata alla parete Dai primi accertamenti La stessa è risultata Non censita nella banca dati nazionale Inoltre il cittadino svizzero Non risulta mai aver avuto autorizzazioni In materia di armi Dato il ritrovamento del fucile I carabinieri hanno approfondito Le ricerche nella baita Per verificare l'eventuale presenza Di ulteriori armi o munizioni Sono così state trovate e sequestrate Due baionette da guerra Probabilmente una volta appartenenti All'esercito svizzero Nonché una confezione con 100 munizioni Dello stesso calibro della carabina Lo svizzero è stato denunciato In stato di libertà Per detenzione abusiva di armi Gli accertamenti dei carabinieri Continueranno per capire L'esatta provenienza del fucile Anche con la collaborazione Della polizia svizzera Dopo gli attacchi Al presidente della provincia Del VCO Alessandro Lana Sulle nomine Alla fondazione Cariplo Lega Salvini VCO Fratelli d'Italia VCO Forza Italia VCO E noi con l'Italia VCO Scendono in campo Con una nota congiunta A difesa del presidente Lana tutta la nostra fiducia Resta saldamente al timone Si legge di una provincia Che in virtù della legge Sui canoni idrici Approvata in regione Per volontà delle forze Di centrodestra Finalmente un bilancio in ordine Ha potuto pagare Tutte le pendenzie Che aveva in essere Grazie al lavoro Dei consiglieri delegati Rimarca il centrodestra L'ente che vede Lana Alla guida dopo anni di stallo Sta eseguendo una serie Di opere necessarie Al miglioramento complessivo Del territorio Siamo dunque assistento Al solito teatrino strumentale Messo in scena Da una parte Delle opposizioni Il PD e la Marchionini Con in testa Le elezioni regionali E da chi Il sindaco di Domo Lucio Pizzi Si ritrova sempre più isolato Nel lagone politico Lontano dalla comunità E dai suoi stessi elettori Gli attacchi a Lana Sono per questo Pretestuosi E frutto di logiche Divisorie E distanti Dal pensiero comune Della maggior parte Dei cittadini Del VCO Lega Salvini VCO Fratelli d'Italia VCO Forza Italia E noi con l'Italia VCO Sottolineo quindi La validità Della terna Cariplo Uscita In queste ore Cambiamo argomento Il ponte Della Mizzoccola Domodossola Per circa sei mesi Sarà oggetto Di lavori Di ammodernamento Lavori importanti Per rendere La struttura sicura Si partirà lunedì Inizialmente Il cantiere Prevede una chiusura Notturna Poi Si procederà Con un senso unico Alternato Da semaforo Partirà lunedì Il cantiere Sul ponte Della Mizzoccola Domodossola La struttura Da tempo Necessitava Di importanti lavori Di messa in sicurezza In porto Dell'opera 800 mila euro Tempo previsto Per la conclusione Dell'intervento 180 giorni La strada È provinciale Ed è quella Che collega I territori Di Domodossola A Trontano Percorsa Da chi deve Raggiungere I comuni Di Masera Beura Cardezza E la popolosa Frazione Di Cosasca A Trontano Il ponte È quello Che bypassa Il fiume Etoce Divide Le località Del Badulerio E il Croppo Un intervento Lungo E che si svilupperà Dunque In più step La prima fase È quella Che partirà Appunto Lunedì Prossimo Un lavoro Complesso Che vedrà La ditta Operare Nell'alveo Del fiume Per sostituire Parti Del ponte In ferro Spiegarino Porini Consigliere Delegato Alla viabilità Dell'amministrazione Provinciale Del verbano Cusiossola Essendo L'arteria Un nodo Strategico L'intervento Sarà effettuato In orario Notturno Dal 6 Al 10 Febbraio La provinciale Sarà chiusa In località Mezzoccola Dalle 22 Alle 5 Del mattino Questo Aggiunge Ancora Porini Per limitare Al minimo I disagi Alla viabilità Ordinaria Va detto Che si tratta Di lavori Non più Procrastinabili Valutato Lo stato Di salute Della struttura Tant'è Che qualche anno Fa Proprio La provincia Del verbano Cusiossola Ente Titolare Della proprietà Dell'arteria A causa Della situazione In cui Versa Il ponte Ha imposto La limitazione Della portata Dei mezzi Pesanti In transito Lungo Quella struttura Andiamo A Umegna Dopo le elezioni Del fine settimana Avviato Litera Per la convocazione Dei consigli Di quartiere Domani La presa Ad atto Della giunta Poi La trasmissione Della pratica Al consiglio Comunale Dopo le elezioni Dei quartieri Di domenica 29 gennaio Sono iniziate Le procedure Burocratiche Per rendere I nuovi consigli Attivi Nel più breve Tempo Possibile Mercoledì 1 febbraio Sono stati verificati I risultati Della prima commissione Consigliare Mentre domani Venerdì 3 febbraio Durante la seduta Di giunta Verrà preso atto Dell'esito Delle votazioni E avverrà La trasmissione Della pratica Al consiglio comunale In consiglio comunale Verranno nominati Ufficialmente I consiglieri Dei singoli quartieri E avverranno Le eventuali surroghe In ordine di tempo Il primo consiglio comunale Dovrebbe essere Intorno alla metà Del mese di febbraio Verrà infatti Convocato Giovedì 9 febbraio Quando è stata indetta La conferenza Dei capigruppo Dal presidente Del consiglio comunale Rosarita Varallo Dopo il passaggio In consiglio comunale Verranno convocate Le singole assemblee Dei quartieri Le quali Eleggeranno Un presidente E avvieranno I loro lavori Autonomamente In relazione All'aggiornamento Delle misure Di contrasto Alla diffusione Dell'epidemia Covid-19 La regione Piemonte Ha comunicato Che le persone Possono terminare Il periodo Di isolamento Senza necessità Di avere Un tampone Con esito negativo Pertanto Il cittadino Non riceverà più Da parte Del ministero Della salute La comunicazione SMS Di guarigione E il relativo link Per lo scarico Del Green Pass Nel caso in cui Il cittadino Necessiti Di tale documentazione Dovrà contattare L'ASL Oppure Il proprio medico Curante Che dovranno Provvedere All'inserimento Manuale Della guarigione Nell'apposita Funzione Della piattaforma Covid Ed ora Siamo a donare Per crescere Lo spazio Settimanale In collaborazione Con fondazione comunitaria Del VCO Andiamo a Piedimulera Dove grazie a un contributo Della fondazione È stato possibile Realizzare un progetto ludico Per i bambini Dell'asilo Molteni L'asilo di Piedimulera Una struttura privata Che conta Sei insegnanti 75 bimbi Con una capienza massima Di 80 Raccoglie bimbi Di 11 comuni Da Ornavasso Fino a Crevola d'Ossola Una realtà Molto viva Che si arricchisce Con uno spazio esterno Di che cosa si tratta? Si tratta Di un nuovo spazio Educativo In cui guadagniamo Un ulteriore insegnante Che è la natura stessa Che accanto a noi Lavora in questo contesto È uno spazio Molto studiato Progettato Frutto di una formazione Di noi insegnanti Dove noi Pianifichiamo Le attività Ma sono i bambini A lavorare In maniera spontanea A contatto diretto Con la natura Lei è una delle insegnanti Che ha seguito E ha completato Il corso di formazione Per portare i bimbi Fuori in questo nuovo spazio Ma che cosa si può fare qui? Beh Qui fuori Si può fare Tutto E tanto Perché comunque Come potete vedere È tutto a natura Per cui Già il bambino Faccio anche solo un esempio Il gioco simbolico Dove appunto Io ho fatto proprio Un corso formativo Sul gioco simbolico Imita proprio La mamma Nel fare Da mangiare Si preparano il tavolo C'è la bimba Che cucina Che appunto Serve i suoi compagnetti E oggi faccio la pasta Piuttosto che Quindi questa è proprio Una cosa meravigliosa Un'opera che è stata realizzata Anche grazie al contributo Di Fondazione Comunitaria Che da molti anni È al vostro fianco Certo Allora La Fondazione Comunitaria Ci sta sostenendo Da più di dieci anni Anche quando c'è stato L'ampliamento Di questo asilo Nel 2012 E non ci ha mai lasciati Noi chiediamo E loro rispondono sempre Questo bando È stato accolto Positivamente E noi ci tenavamo In particolar modo Senza il loro contributo Non avremmo comunque Potuto realizzarlo È un legame lungo Quello che accomuna La Fondazione Comunitaria All'asilo Di Piedimolera Sì È un legame Che dura da dieci anni Praticamente Sono dieci anni In questi anni Abbiamo sempre approvato I loro progetti Perché sono progetti Molto interessanti E anche perché Sono una realtà particolare Questo è un asilo Che compie 150 anni E non è nato Perché ha deciso Lo Stato Il Comune È nato Perché la comunità Di Piedimolera 150 anni fa Lo ha voluto E oggi questa tradizione Continua grazie Soprattutto all'impegno Dei volontari Gli amministratori Di questo asilo Sono tutti volontari Oltre che alla professionalità Degli insegnanti Questo progetto In particolare L'abbiamo finanziato Con il bando sociale Del 2022 Abbiamo dato Un contributo Di 5.000 euro Il bando In totale Aveva erogato 134.000 euro Per 19 progetti Sparsi in tutta la provincia Si parla di scuola Anche nel prossimo servizio Però ci spostiamo Nel Vergante Per raccontarvi Di un progetto Di collaborazione Siglato tra Il locale Istituto comprensivo E alcuni comuni L'Istituto comprensivo Del Vergante Ha stipulato Una convenzione Con gli otto comuni Che fanno parte Di questo istituto Per delle spese Ma soprattutto Anche per Della formazione Dirigente Allora Gli otto comuni Hanno stipulato Questa convenzione Per finanziare E integrare E arricchire L'offerta formativa Del territorio È un'azione sinergica Che è stata svolta In maniera Ottimale Direi Da tutte le Amministrazioni comunali E che hanno A bene Hanno A mente Il successo formativo Degli studenti Quindi Credo che sia Un valido contributo Dato alla comunità E di vicinanza Ai bisogni Del territorio Quindi si tratta Anche di un contributo Vero e proprio In denaro Sì I comuni Hanno Deciso Di cofinanziare L'attività formativa Dell'istituzione scolastica Dando un contributo In funzione Del numero Degli iscritti Hanno realizzato Credo Un modello Sperimentale Che è iniziato Nel 2009 Ma che si è arricchito Ad esempio Con quest'anno Con l'arrivo Il rientro Nel comune Di Paruzzaro 1.400 alunni 210 Insegnanti 46 collaboratori Scolastici Mi risulta Che fino a qualche tempo fa Eravate l'istituto Più grande Del Piemonte Sia come numero Di comuni Che numero di allievi Sì Questi sono i numeri Che danno l'idea Della complessità Dell'azione didattica Ma che costituiscono Dal mio punto di vista Un maggior stimolo Per far bene E la dimostrazione Che quando L'interesse Comune È sentito Ed è qualcosa Di fattivo I risultati Si raggiungono Un ringraziamento A tutte le amministrazioni Comunali Che si sono impegnate A fondo Per trovare Queste risorse E dedicare Esclusivamente All'interesse collettivo Dei minori 8 poltrone Per chemioterapia Sono state donate All'oncologia Dell'ASL VCO Nella sala Di educazione Terapeutica Intitolata La dottoressa Luraschi Presso l'ospedale Castelli La cerimonia Di consegna Da parte Degli amici Dell'oncologia Per le sedi Ospedaliere Di Verbania E di Domodosso La 7 poltrone A cui se ne aggiunge Un'ottava donata Da Elena Tonelli Sono state acquistate Per 9 mila euro Grazie alla donazione Di Eros Buratti Della Casera Fondi raccolti Attraverso Un'iniziativa Benefica Promossa Tra gli amici Per il 50esimo compleanno Del commerciante Verbanese Da Eros Due parole Come nasce Questa donazione Nasce nel momento Che non abbiamo potuto Fare una grande festa Per i miei 50 anni Abbiamo pensato Di coinvolgere Tutti i nostri amici Regalando Una bottiglia di vino E loro Invece di avere In cambio Un regalo Ho voluto Fare delle donazioni E mi hanno Risposto molto bene A quello Cioè Aprire il cuore A tutte le persone Che ne hanno bisogno Questa è la cosa Più importante Per i miei 50 anni Come è stata fatta La scelta Di devolvere Questa donazione Abbiamo pensato I bisogni più immediati Dei pazienti Le caposala Ci avevano segnalato Qualche difficoltà In termine di poltrone Che si utilizzano Per le terapie Che erano ormai consunte Quindi abbiamo pensato Che fosse la cosa più utile Per poter far ricadere In maniera più diretta Sui pazienti Il beneficio Di una donazione Dottor Franchini Due parole Sull'utilità Di questa donazione La donazione È utilissima Perché come dicevo prima Il comfort Per i pazienti È fondamentale Queste poltrone Andranno ad arricchire Quelli che sono I nostri Dei hospital Ed è fondamentale Perché noi abbiamo Nonostante L'avvento Dei farmaci orali Abbiamo ancora Il 65% Dei terapie Che viene fatto Per via endovenosa E conseguentemente Chiaramente Più è confortevole L'ambiente E soprattutto La poltrona Su cui il paziente Deve infondere la terapia E meglio è per il paziente È sempre piacevole Ritrovarsi in queste circostanze In cui dal territorio Giungono segnali Di attenzione Per la nostra sanità Sì Sì Molto piacevole Anche riscontrare La generosità Delle persone Dei singoli Delle associazioni Di tante persone Che in fondo Non ci vogliono Nemmeno mettere la faccia Ed è Anche riscontrare Che questa generosità È il frutto Di un sentimento Che è sempre più raro Che è la gratitudine Perché Purtroppo Tante volte Le persone Non sono grate Invece Qua ho trovato Tanta gratitudine E quindi Tanta generosità Prosegue con successo La stagione concertistica Di Verbagna Musica Domenica scorsa Nel foyer del Teatro Maggiore È andato in scena Il quarto appuntamento Il canto delle muse Concerto per flauto e arpa Che ha visto Grandi protagonisti Come la flautista Anna Ratti E l'arpista Lucia Fotti Che hanno dato vita A uno spettacolo musicale Armonico Dolce Con musiche di Nino Rota Iber Tuver Glier Un concerto molto apprezzato Dal pubblico presente Che ha omaggiato Le protagoniste Con numerosi applausi La stagione Di Verbagna Musica Prosegue con il prossimo Concerto In programma Domenica 12 febbraio Sempre con inizio Alle ore 16 Nel foyer del Teatro Maggiore Saranno protagonisti Il violoncello Di Paolo Tedesco E il pianoforte Di Andrea Tedesco Nello spettacolo La musica è magia E siamo all'ultimo importante evento collaterale della mostra Seitzinger Alchemica Sabato 4 febbraio alle ore 18 presso il collegio Rosmini di Domodossola Si tratta del suo finissage L'esposizione chiude questa domenica 5 febbraio dopo tre mesi ricchi di incontri e di grande partecipazione del pubblico La presentazione di Melusina sarà occasione di confronto sul libro d'artista firmato da Laura Pugno ed Elisa Seitzinger Le due autrici dialogano con Francesca Chiappa di HACCA Edizioni Ed ora siamo allo sport in apertura a quelli invernali con Gianluca Trentini e le anticipazioni di Spazio Neve La trasmissione dedicata al mondo dello sci Sentiamo dunque i contenuti di questa puntata Il settimanale è in onda il giovedì alle 21 e ancora alle 12 di venerdì e alle 18.30 del sabato Torna Spazio Neve Il rotocalco, il contenitore di Vicio Azzurra TV Tutto dedicato agli sport invernali realizzato in collaborazione con il nuovo comitato Fisi VCO del nuovo presidente Luca Mantovani Avremo ospiti gli amici dello SciClub Gallarate, Bodo, Bassimo Bodini Ciao a tutti E poi il giovane Lorenzo Bodini Che ci ha detto che nelle gare che ha fatto a San Domenico una è andata bene, una meno bene però può capitare Ce lo si fa andare bene Ce lo si fa andare bene ma si punta sempre in alto Parleremo con loro, avremo tanto spazio in questa edizione di Spazio Neve ai vari SciClub Però parleremo anche delle gare che ci sono state, del trofeo Bodo Ski Shop che hai organizzato tu nello scorso weekend Parleremo delle indicative, parleremo di Valentina Greggio, parleremo anche dello Ski Alp Tanto tanto da vedere, noi ci siamo, staremo insieme per tante settimane Spazio Neve è tornato E ora il punto sul mondo del volley locale in vista della ripartenza dei gironi di ritorno Con la partita di sabato al Palamanzini si è concluso tutto il programma dei gironi d'andata dei campionati di pallavolo regionale Mancava solo la partita in Serie C femminile, alla quale si riferiscono le nostre immagini Che Vox Rosalziora ha vinto per 3-1 contro Igor Volley Trecate Che partecipa con la squadra Under-16 al massimo torneo regionale Un match che ha visto Verbani a giocare un pochino troppo sui ritmi delle avversarie Vincendo il primo set 25-18 ed il secondo sul 25-22 Nel terzo set Rosalziora con tante giovani in campo sbaglia e lascia troppo spazio alla Igor Che pur con due soli punti di classifica sa stare in campo E spinta dalla figlia d'arte Rebecca Aimaretti Figlia di quell'Ariel che è stato grande protagonista della nostra pallacanestro Va a vincere il set 26-28 per Trecate e situazione sul 2-1 Ma il quarto parziale rimette le cose a posto La Vox con le titolari gioca sui suoi ritmi ed il 25-9 dice tutto 3-1 e terza piazza in solitaria per la squadra di Balzano Con le 9 vittorie, due sconfitte al quinto set e due stop da 0 punti Nel prossimo weekend vi è gironi di ritorno con Rosalziora Cigliano Samma Borgo Avenaria e Pavic Romagnano domenica a Pianezza In Cimaschile Camping Isolino Alziora Verbagna se la vedrà contro Volley Novara al Palamanzini La Icarona tenderà in casa l'abbordabile Cetip Macchimo Aquiterme Mentre studio immobiliare VCO Domodossola gioca a Torino un match molto complicato Contro la corazzata Ascot-Lassagliano Riprende anche la serie di femminile Cesara Pallavolomegna in trasferta sabato sul campo del fanalino di coda Cusco Legno E questo era l'ultimo servizio VCO Azura TV.it le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti Grazie per essere stati in nostra compagnia e buona continuazione di serata Grazie per essere stati in nostra compagnia